Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui quadrilateri oggi andremo a vedere i trapezzi. Quindi insieme cosa andremo a fare? Andremo a definire che cos'è un trapezio, identificheremo le diverse parti di un trapezio e poi cominceremo a vedere alcune delle loro caratteristiche dal punto di vista della relazione tra gli angoli adiacenti e allo stesso lato obliquo e vedremo in particolare come possiamo classificare i trapezzi. E cominciamo la lezione di oggi facendo un piccolo esercizio di identificazione. Come vedete sullo schermo ci sono diverse figure piane, alcune sono poligoni, altre no. Allora quello che vi chiedo di fare in questo momento è dire quale o quale di tutte queste figure sono dei trapezzi. Come al solito vi chiederò di mettere un attimo in pausa il video, provare a svolgere l'esercizio per i fatti vostri e poi vediamo insieme quale effettivamente di queste figure sono dei trapezzi. Ecco, probabilmente la maggior parte di voi avrà identificato come trapezio questa figura in alto a destra. Questa è solo questa. E sì, evidentemente questo è un trapezio, questo ne corrisponde proprio alla nostra idea di trapezio, ma facciamo una cosa, andiamo a vedere ora insieme qual è la definizione di trapezio secondo la geometria. Allora un trapezio è un quadrilatero con almeno una coppia di lati opposti paralleli. Nella figura qui disegnata i lati opposti paralleli sono ovviamente questo e questo qui. Però qui c'è una parola chiave. La parola chiave è almeno. Almeno non significa solo una coppia di lati opposti paralleli. Significa una coppia e volendo anche l'altra coppia. Questo significa che la definizione di trapezio va a comprendere anche delle figure geometrie dei quadrilateri che hanno entrambe le coppie di lati opposti paralleli. E allora se torniamo a questa immagine qui vedremo che ci sono altri quadrilateri che corrispondono a questa definizione. Chiaramente ci sono alcuni che sicuramente non corrispondono perché, per esempio, sia questo che questo non sono nemmeno dei poligoni, questo è un pentagono, questo è un decagono, questo è un esagono e questo è un triangolo. Però se andiamo a vedere tutti gli altri quadrilateri che sono rimasti, vediamo che essi corrispondono proprio alla nostra definizione perché hanno almeno una coppia di lati opposti paralleli. Quindi sia questo che è un quadrato, sia questo che è un parallelogramma, sia questo che è un rombo, sia questo che è un rettangolo. Tutte queste figure rientrano alla nostra definizione di trapezio. E questo ci porta a un'importante considerazione dal punto di vista di come classifichiamo queste figure. Perché se noi andiamo a considerare, appunto, nella grande famiglia quadrilateri, l'insieme dei trapezi, che è questo insieme grande qui, vediamo che esso contiene al suo interno tutta una serie di altre figure. perché i trapezi sono quei quadrilateri che hanno almeno una coppia di lati opposti paralleli. All'interno dell'insieme dei trapezi c'è il sottoinsieme dei parallelogrammi, che sono, come vedremo anche in le lezioni successive, quei quadrilateri che hanno entrambe le coppie di lati opposti paralleli. A sua volta, all'interno dell'insieme dei parallelogrammi abbiamo i rombi, che sono i parallelogrammi equilateri, quindi che hanno tutti e quattro i lati uguali. Abbiamo un altro insieme, che è quello dei rettangoli, che hanno tutti gli angoli uguali. e a quel punto, nell'intersezione tra rombi e rettangoli, abbiamo quei quadrilateri che hanno entrambe le coppie di lati paralleli e lati opposti paralleli, chiaramente congruenti, e che sono sia equilateri che equiangoli, ovvero i quadrati. Ecco, questa è un po' la nostra classificazione dei quadrilateri, a partire trapezzi. Quindi trapezzi comprendono parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati. Ecco, ora però andiamo a vedere un trapezio qualsiasi, va bene? Quindi andiamo a vedere un trapezio che abbia solo una coppia di lati paralleli. Questi lati paralleli vengono chiamati normalmente le basi del trapezio. Visto che sono di lunghezza diversa, noi avremo il lato, il base più lunga verrà chiamata base maggiore e il lato parallelo più corto verrà chiamato base minore. Gli altri due lati verranno chiamati lati obliqui e non saranno necessariamente uguali tra di loro. Bene? La distanza tra le due basi, che in questo disegno è questa linea tratteggiata blu e anche quest'altra linea tratteggiata blu, si chiamerà altezza del trapezio. E questo sarà molto importante poi quando andremo a vedere successivamente le formule per l'area del trapezio. Infine una cosa importante, Cioè questo pezzettino qui che ho indicato a lettere Kb è quello che si chiama la proiezione del lato obliquo. Se vi ricordate quando abbiamo studiato, parlando di simirette, segmenti, eccetera, le proiezioni, no? Questo significa, prendete la proiezione, ovvero l'ombra, se vogliamo chiamarla così, del lato obliquo sulla base maggiore. Quindi abbiamo Kb, che è la proiezione di Bc sulla base maggiore a B, e H, quest'altro pezzo qui, che è la proiezione del lato obliquo a D, sempre sulla base maggiore. Queste proiezioni hanno un doppio significato. Intanto, chiaramente, sono, diciamo, possiamo dire, quel pezzetto in più rispetto alla lunghezza della base minore. Vedete, la base minore di C è, chiaramente, corrispondente al segmento HK. La base maggiore è data da un pezzetto, quindi, che è lungo quanto la base minore, più le due proiezioni. Poi queste due proiezioni formano, con le rispettive altezze e lati obliqui, dei triangoli rettangoli. Di nuovo, il prossimo anno, quando studieremo il famoso teorema di Pitagora, questi triangoli rettangoli saranno importanti, appunto, per risolvere i nostri trapezzi. Sui trapezzi possiamo, intanto, fare delle considerazioni interessanti. Se vi ricordate, quando abbiamo studiato le rette parallele tagliate una trasversale, abbiamo visto come gli angoli interni, in questo caso, per esempio, che so, alfa primo e delta, so, erano, risultavano tra di loro supplementari, cioè alfa primo più delta erano uguali a un angolo piatto. E se noi andiamo a riproporre questa situazione nel caso di un trapezio, no? Quindi, consideriamo delle rette che corrispondono alle due basi, quindi a due lati paralleli. È una retta, al loro trasversale, che è la retta a cui appartiene poi il nostro lato obliquo. È chiaro che il lato B, cioè dell'angolo B, scusate, e l'angolo C, sommate insieme, faranno un angolo di 180 gradi. Quindi, come riassumiamo questa situazione? Noi sappiamo che in un trapezio gli angoli adiacenti allo stesso lato obliquo, quindi, in particolare, se abbiamo il lato obliquo BC, l'angolo B e l'angolo C, sono supplementari. Cioè, il sommate insieme fanno 180 gradi. Lo stesso potremmo dire per l'angolo A e l'angolo D, cioè A più D farà 180 gradi. Di nuovo, questo ci permetterà, se conosciamo, per esempio, due angoli del nostro trapezio, possiamo trovare tutti gli altri. Ecco, per la seconda parte del nostro video, che sarà dedicata a come classifichiamo i trapezzi, c'è da fare un esercizio, un esercizio di disegno. Quindi, in questo momento io vi chiederei di armarvi di righelle di matita e di cominciare a disegnare. La prima cosa che vi chiederò di fare sarà di disegnare un triangolo esoscele, che vi ricordo, appunto, è un triangolo che ha due lati congruenti e uno diverso, di solito ho chiamato base. Quindi, disegnate un triangolo esoscele. Vi consiglio, disegnate, di mettere in pausa e poi vedere l'istruzione successiva. Ecco, ora che avete disegnato il vostro triangolo esoscele, vi chiederò di tracciare una retta parallela alla base del triangolo che tagli via la punta del triangolo stesso. Un altro modo in cui potreste fare è proprio fare un modellino abbastanza grande del vostro triangolo esoscele e poi, con le forbici, tagliare via la punta con un taglio che sia parallelo alla base del vostro triangolo. E a questo punto la domanda che vi faccio è che figura vi rimane, e che figura avete ottenuto. La figura che dovreste aver ottenuto è più o meno, quindi, qui vedete, no? Il triangolo esoscele, questa è la retta che taglia via la punta superiore e quello che vi rimane è, ovviamente, un quadrilatero. Evidentemente è un quadrilatero con due lati paralleli, no? Perché avete la base del vostro triangolo in partenza, scusate, ora non lo sto facendo molto dritto, e il taglio che avete fatto. Ma la cosa importante sono i due lati obliqui. Questi due lati obliqui dovrebbero essere congruenti fra di loro. Quello che avete ottenuto, appunto, tagliando un triangolo esoscele, tra altre cose, piccola nota, la parte che avete tagliato è anch'essa un triangolo esoscele, ecco, quello che avete ottenuto è un trapezio isoscele, cioè un trapezio con i due lati obliqui congruenti. E questo è il primo tipo di trapezio che dobbiamo conoscere. Secondo esercizio di disegno. Vi chiederò di disegnare un triangolo rettangolo. Vi ricordo, un triangolo rettangolo è un triangolo che ha un angolo retto. E in particolare vi chiederò di disegnarlo che si appoggi su uno dei cateti, quindi su uno dei due lati che hanno in comune l'angolo retto. Di nuovo, mettete in pausa e aspettate l'istruzione successiva. L'istruzione successiva, e questo ormai non dovrebbe essere una sorpresa, è di tracciare una retta parallela alla base, in questo caso intendo uno dei cateti e il triangolo, e di nuovo tagli via la punta del triangolo stesso. E qui a questo punto dovreste avere un po' capito dove stiamo andando a parare. Se tutto va bene, questa è la figura che dovreste aver disegnato. Quindi abbiamo il nostro triangolo rettangolo di partenza, la retta, il taglio che abbiamo fatto parallelo a uno dei cateti, e di nuovo, il pezzo che avete tagliato è a sua volta un triangolo rettangolo, ma quello che ci importa è ciò che rimane. Cosa rimane? Di nuovo rimane un quadrilatero, in particolare un quadrilatero con due lati paralleli, che appunto sono le nostre basi, e quindi abbiamo un trapezio, ma in particolare questo trapezio ha uno, anzi in realtà ha due, attenzione, ha due angoli retti, cioè questo e questo. Questo, dovrebbe essere a questo punto una sorpresa, è un trapezio rettangolo. Quindi, un trapezio si dice rettangolo se ha un lato oblicuo perpendicolare, questo lato oblicuo, questo qui a destra, è perpendicolare alle due basi, oppure potete dire che ha due angoli retti. Ultimissimo esercizio, disegnare un triangolo scaleno, quindi un triangolo qualsiasi, un triangolo con tutti e tre i lati diversi, e mi raccomando non fatelo di nuovo rettangolo, non fatelo di nuovo con l'angolo retto, potete fare l'ottosangolo, che potrebbe essere anche interessante, comunque l'importante è che sia un triangolo scaleno. Mettete in pausa, quando avete disegnato il vostro triangolo, vediamo l'istruzione successiva, che a questo punto non dovrebbe essere assolutamente una sorpresa. ed infatti, cosa vi chiederò, di nuovo di tracciare una retta parallela alla base del vostro triangolo, e tagliare via la punta. Cosa abbiamo ottenuto? Indovina, indovina, abbiamo ottenuto una figura, intanto di nuovo, allora, piccola parentesi, io ho disegnato un triangolo ottosangolo, non era necessario, però è più divertente, e di nuovo, la parte che tagliate è una versione scala ridotta del triangolo che avevate disegnato, e ciò che rimane è, ovviamente, un trapezio, cosiddetto scaleno. La cosa importante, attenzione, non è che necessariamente deve avere tutti i lati diversi, ecco, perché può darsi, per esempio, che la base minore sia uguale a uno dei lati obliqui, questo non ci importa niente, non cambia assolutamente la definizione di trapezio, la cosa importante è che un trapezio scaleno è un trapezio che ha due lati obliqui diversi, non congruenti. E con questo abbiamo finito con i trapezzi, ci vediamo alla prossima lezione, arrivederci da Mr. Boscherini. Grazie.